Aspargo Friulano, il vino, ma però prima del vino vorrei darvi ancora il nome di un artigiano del gusto, perché è un'altra ragazza fortissima, molto brava, che ha avuto il coraggio di fare gli aspargo nelle valli del Natisone, ha chiamato questa azienda Angolo di Paradiso, si chiama Gabriella Marzano e vale la pena andarla a trovare, perché i suoi poteri sono biologici, sono fatti molto bene. Allora il vino, ma il vino per l'aspargo è il Friulano, ex Tokay, perché il suo mandorlato, il suo profumo di fiori di campo sta perfettamente con questo tipo di ortaggio, sia fia con le uova, sia fatto con gli asparagi, in generale questo è il vino che sta meglio, ovviamente dipende dalla zona, se è più o meno strutturato, però credeteci è assolutamente l'ideale. L'aspargo in cucina ha una infinità di giochi, infinità di possibilità di fare ricette, una delle ricette che è nata con l'aspargo è prendere gli asparagi bianchi molto teneri e metterli nella pastella e farli fritti, l'unico pericolo è che scottano molto quando si mangiano, però sono stratosferici per quanto riguarda l'aperitivo. Poi un altro classico è il risotto con gli asparagi, quello lo facciamo tutti nelle famiglie, anche qui ripetiamo un consiglio che diamo molto spesso, quando si fa il risotto, attenzione, il risotto deve essere tostato prima di essere portato a cottura definitiva. Vediamo qui in chiusura una ricetta dove ci sta bene il friulano ed è una variante con il prosciutto di San Daniele, allora lavare bene gli aspargi, ci tiene solo la punta, tagliare a julienne, disporre al centro del piatto di portata alcune fette di prosciutto di San Daniele, magro, affettato a sottile e sopra di lui i gambi precedentemente preparati. Contornate il tutto con le punte, conditelo con olio extraverge d'oliva, aceto di vino, sale e pepe e guarnire il piatto con del dragoncello fresco. Il vino anche qui, il friulano. Buon appetito!